Lei ha una sendenza del tribunale che dispone all'esenzione ticket, ma di fatto la medessima non l'è stata rilasciata, come mai? No, perché loro chiedevano l'omologazione di questo certificato che non era possibile, dal momento che una volta che il giudice mi aveva fatto l'omologazione, l'Inps me l'ha respinto, alla fine aver vinto una sentenza, quel certificato bastava per avere, cioè mi posso presentare in qualsiasi ufficio perché quello parla da sempre, però mi si è stato, diciamo, tra virgolette un po' respinto perché loro si devono accertare in via legale, cioè da loro legale, se quel certificato ha valore o meno. Chiedo come mai non si informano abbastanza per non far fare un poro cittadino come me una pedina di qua e di là. Certo, è difficile vedere esauditi i propri diritti, no? In questa città, ma in questo paese. Io parlo sempre di Sulmona, mi dispiace, è una bellissima città, però purtroppo dovremmo aprire un po' di più le menti.